Sono Maria Castro, mi occupo di formazione a distanza in CSI Piemonte. In questo MOOC farò la coordinatrice. Perché un MOOC, ovvero un corso online gratuito e aperto a tutti? Perché la formazione del futuro dipenderà sempre più da ognuno di noi. Questa è un'opportunità per sperimentare, una delle più innovative metodologie didattiche nella formazione a distanza ed ecco perché vi invito a iscrivervi e a partecipare al MOOC sul tema trasparenza e anticorruzione. Vi aspettiamo. Mi chiamo Marco Orlando, sono responsabile dell'Ufficio Studi e Ricerche della provincia di Torino e sono un consulente giuridico dell'Anci Piemonte. In questo MOOC presento una importante riforma realizzata tra il 2012 e il 2013 in materia di normativa per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nella pubblica amministrazione. Mi chiamo Elena Piccatti, sono dottore di ricerca in diritto penale all'Università di Torino e faccio l'avvocato. In questo MOOC mi occupo di analizzare i reati di corruzione e traffico di influenze illecite. Dopo aver compreso come si strutturano, sarà forse più agevole comprendere come andare esenti da responsabilità. Sono Maurizio Riverditi, ricercatore di diritto penale, incaricato di corsi di diritto penale all'Università di Torino, esercito la professione di avvocato e nell'ambito di questo MOOC mi occupo del delitto di concussione prima e dopo la riforma a Severino. Grazie.